Massimo Bitonci, con questo governo non ci si annoia mai, adesso non sapremo se dovremo pagare la seconda rata del Limo o meno. 38 giorni al pagamento della seconda rata del Limo, le coperture non ci sono, i soldi neanche. Stamattina ho incontrato il presidente dell'Anci, Fassino, che sta incontrando tutti i gruppi parlamentari perché come sapete c'è in scadenza la legge di stabilità e quindi noi presenteremo degli emendamenti sia per la copertura del Limo ma anche per la copertura del patto di stabilità e le altre problematiche legate agli enti locali. Però questo penso che sia un problema grosso, nel senso che non si può pensare di far pagare l'Imu e la seconda rata dell'Imu alle nostre famiglie proprio in un momento così delicato di crisi economica dove c'è una contrazione dei consumi molto pesante dall'inizio dell'anno quasi un 10% di contrazione di tutti quanti i consumi delle nostre famiglie. Quindi io penso che vada cancellata questa seconda rata e io stamattina ho ribaduto lo stesso concetto ci sono 130 miliardi di spese per servizi, una buona parte di queste sono servizi di carattere improduttivo che il governo tagli invece di aumentare le tasse. Grazie. Grazie.